Sono Daniela Conte, sono una pittrice. Volendo definire che cosa è per me la mia pittura, posso dire che è un lungo rituale, è un'esperienza fisica e mentale. È una lunga meditazione, una ricerca di visioni, di sensazioni, di suggestioni e di segni comunque. E parte proprio da tutte le superfici, da tutti gli oggetti del quotidiano. Amo dipingere su ogni tipo di supporto e soprattutto materiale di recupero che mi restituisce proprio una propria anima, una propria vita. E tutti i segni che ricerco, poi nel quotidiano che raccolgo, la pittura mi restituisce insieme a delle nuove visioni e delle nuove figurazioni, stratificando materia e vivendo proprio fisicamente con totale trasporto. Tutta la materia raccolta che si stratifica, si solidifica, quasi soffocando alle volte quello che invece dopo viene fuori come una visione leggera e una vera e propria rivelazione anche per me stessa. Grazie a tutti.